Alla storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste, discena anche le bellezze del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Tra le 2700 imbarcazioni che hanno animato la 57esima edizione della celebre Barcolana, si è fatta spazio anche una barca a vela della sezione della Lega Navale di Acciaroli, con un equipaggio cilentano che ha innalzato i guidoni della Lega Navale affiancati da quelli del Parco Nazionale del Cilento. In concomitanza con la Barcolana 50 e i festeggiamenti dei 100 anni dalla fondazione della sezione di Trieste della Lega Navale, si è tenuta anche l'Assemblea Generale dei Soci della Lega Navale, che ha visto la partecipazione del Presidente Nazionale, di tutti i delegati regionali e dei Presidenti delle strutture periferiche di tutta Italia, che si sono riuniti nel capoluogo regionale. All'importante incontro ha preso parte anche il Vice Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Cono Delia, salutato dall'Assemblea della Lega Navale Italia con un lungo applauso, a dimostrazione dell'interesse suscitato dal suo intervento. Un particolare riferimento alle attività del Parco, soprattutto a quelle delle due aree marine protette, è l'invito a collaborare e sviluppare insieme attività di carattere ambientale e turistiche, uno spazio nel quale il Vice Presidente non solo ha sottolineato la necessità di una forma di collaborazione con la LNI, anche per la tutela e il controllo delle aree marine protette della costa di Castellabate e di quella degli infreschi e della masseta, ma è stata l'occasione per presentare la terza edizione della regata cilentana delle aree marine protette, che il Parco Nazionale del Cilento, con la Lega Navale di Acciaroli, ha già programmato per il 2019. L'iniziativa del Cilento alla Barcolana 50 ha visto anche il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo Didiano e Alburni, insieme alla Presidenza nazionale della Liga Navale italiana.